Fuori programma imbiancato all'Aquila, dove attorno alle 8 il maltempo e la neve hanno stretto in una morsa la città e l'intero Interland del capoluogo. Certo, le previsioni avevano preconizzato un brusco abbassamento delle temperature, ma la coltre bianca ha sorpreso un po' tutti. Fuori dagli armadi piumini e cappelli, con il ricordo delle giornate estive dei giorni scorsi che sembra ormai sbiadito. Situazione più complessa in quota, con la neve che è scesa abbondantemente sul Gran Sasso e sui paesini della cinta montana, regalando a residenti e turisti arrivati per il ponte del 25 aprile uno spettacolo magico e al tempo stesso surreale. Un leggero strato di neve si è depositato anche sulle autostrade, ma grazie al lavoro dei mezzi sparti neve e spargisale non sono stati registrati particolari problemi alla circolazione. Stesso discorso su strade statali e provinciali, dove l'obbligo di gomme termiche è terminato il 15 aprile scorso. Considerata la straordinarietà della situazione, il sindaco Massimo Cialente ha annunciato inoltre dalla sua pagina Facebook che fino al 1 maggio verrà prorogata l'accensione degli scaldamenti in tutti i plessi scolastici, progetti case e Banca d'Italia.